È stata sottoscritta la convenzione tra l'Agenzia Regionale Sanitaria e l'Università degli Studi di Camerino per lo svolgimento delle attività necessarie al funzionamento del Registro Tumori Regionale, firmatari il direttore dell'Agenzia Enrico Bordoni ed il rettore dell'Università Flavio Corradini. In base alla convenzione si avvia la collaborazione tra l'Ateneo Camerte e la Regione Marche nella gestione del Registro Tumori Regionale, istituito presso l'Agenzia Regionale Sanitaria. L'Ateneo Camerte fornirà indicazioni metodologiche sulla raccolta e sull'analisi dei dati, strumenti necessari per costruire gli indicatori scientifici di monitoraggio delle patologie tumorali. Inoltre predisporrà programmi di formazione del personale che dovrà ravolare al Registro. La scelta è caduta su Camerino perché l'Università ha attivato dal 91 il Registro Tumori della provincia di Macerata acquisendo una consolidata esperienza nella sorveglianza della popolazione. Inoltre è in possesso dei riconoscimenti scientifici dell'Associazione Italiana Registro Tumori e di quella internazionale di Lione. Il Registro sarà un'articolazione dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale dell'Agenzia Sanitaria che coordina tutte le rilevazioni degli enti del servizio sanitario regionale. La collaborazione ha durata di un anno. Il Registro Tumori Regionale sarà la principale base di studio per indagini scientifiche e statistiche sulle possibili correlazioni tra insorgenza di patologie tumorali e presenza di rischi ambientali. Per questo motivo dovrà divenire punto di riferimento centrale a copertura di tutto il territorio regionale, uno strumento di ulteriore sicurezza per la comunità marchigiana e di importanza strategica per le istituzioni.